E vuoi scoprire chi ha scoperto e come ha scoperto il Big Bang? Beh, ti consiglio di seguire questo video, ma prima, sigla! Ciao, io sono Luca e sono youtuber e racconto astronomia facile e veloce. Quindi, se sei interessato a questo bellissimo mondo, beh, ti consiglio di iscriverti al canale. Ora, iniziamo col video vero e proprio. 14 miliardi di anni fa c'è stato il Big Bang, ma voi sapete chi l'ha scoperto? Beh, se lo sapete scrivetelo nei commenti. Comunque, la scoperta venne fatta da Hubble. Innanzitutto, il nostro astronomo ha creato una legge detta legge di Hubble, la quale ci dice che le galassie si allontanano dalla nostra galassia con una velocità proporzionale alla nostra distanza. Ma cosa vuol dire questo? E come ci è arrivato? Il nostro amico strofisico ha capito che qualsiasi sorgente, quindi qualsiasi cosa che sia in avvicinamento, ha una luce che tende verso il blu, perché ha una frequenza maggiore. Invece, se qualsiasi sorgente che sia in allontanamento avendo una frequenza minore, la luce tenderà verso il rosso. Quindi, grazie all'ospetto, è riuscito a calcolare la velocità radiale. Ma che cos'è la velocità radiale? In maniera molto semplice, è la media di quanto si allontanano o si avvicinano le galassie. Ma ritorniamo alla lente di Hubble. Lui è riuscito a scoprire una costante detta H che va dai 50 ai 100 km al secondo meno 1 per megaparsec. Il km al secondo meno 1 sarebbe la velocità espressa in km al secondo. Invece, il megaparsec sarebbe la distanza, ed è una distanza cosmologica che equivale a un milione di parsec e un parsec che equivale a un terzo anno luce, cioè un terzo della distanza compiuta dalla luce in un anno. In sostanza, se una galassia è distante da noi un megaparsec, allora si allontanerà con una velocità dai 50 ai 100 km al secondo. Invece, se una galassia è distante da noi 100 megaparsec, allora si allontanerà da noi con una velocità dai 5.000 ai 10.000 km al secondo. Ma quindi, cosa ha scoperto il nostro astrofisico? Beh, per prima cosa, che se le galassie si stanno allontanando, vuol dire che l'universo si sta espandendo. E quindi, tanto tempo fa, si doveva essere concentrato tutto in un unico punto. Ma se vuoi sapere che cos'è e che cosa c'era dentro, beh, questo lo scoprirà in un prossimo video. Come seconda scoperta è che l'universo è isotropo, questo vuol dire che da qualunque parte voi lo guardiate, l'universo presenta le stesse proprietà, che è omogeneo e che ha lo spazio illimitato. Queste tre caratteristiche, quindi l'isotropia, l'omogeneità e lo spazio illimitato, vengono riunite nel principio cosmologico. Come terza ed ultima scoperta è che l'universo ha un'età finita, che oggi si pensa che abbia circa 13,7 miliardi di anni. Ma io in questo video ho sempre parlato come la nostra galassia fosse al centro dell'universo o comunque in una posizione privilegiata. Ma se noi testi ci spostassi in una galassia, una galassia d'età, noi vedremo anche noi allontanarsi altre galassie. Quindi di per sé ogni galassia può essere al centro dell'universo o comunque in una posizione privilegiata. Per oggi il video è finito, ma se vuoi scoprire altre curiosità come queste, beh, ti consiglio di iscriverti al canale. Comunque noi ci vedremo sempre qui su questo canale con un nuovissimo video. Ciao!